buongiorno amici stamattina sto andando sul set di un videoclip di una canzone che ha fatto un mio amico si chiama fernando alba è il secondo videoclip che gli faccio mi faccio una passeggiata tanto in centro gireremo in una galleria d'arte e io sarò una sorta di mi sto ispirando un po a sgarbi come personaggio che devo interpretare un po a sgarbi come Sempre in diretta. Oh Vabbè quando hai delle scadenze E watched un in l'indì Ainhas Eine Faita In Cosa Ném È seva In C'è l'ho, c'è l'ho, guarda che sobrato c'è l'ho, facciamo tutta questa specie del mondo parallelo lo fai così e poi quando siamo invece nell'altra fase con tutti quanti eccetera, è lì. Che fai proprio? Come? Stai facendo? Preparo la scenografia allo studio di artista. Grazie a Vincenzo io ho conosciuto lui, lui ha avuto un problema e non poteva più farlo e Cristina chiamò me, io non la conoscevo. No, vai varia fatta. Grazie a tutti.